Tornano le giornate FAI di primavera anche in provincia di Vibo Valencia, un intero weekend dedicato al patrimonio culturale italiano da scoprire e proteggere. È dal 1993 che i volontari del FAI danno opportunità di visitare oltre 12.000 luoghi, spesso inaccessibili ed eccezionalmente visitati in più di 5.000 città in tutta Italia. E anche la delegazione vibonese non è da meno, permettendo ai tanti, che ogni anno partecipano a questo grande avvenimento, di visitare e scoprire luoghi ai più sconosciuti. Quest'anno due città, Vibo e Filadelfia. Inizieremo con Vibo il 22 alle 17.30 al museo, con la presentazione di un bellissimo libro sulla laminetta orfica di Maurizio Bonanno. Il FAI ha voluto ricordare i 50 anni dell'istituzione del museo e quindi abbiamo voluto fare questo appuntamento specifico. Poi passeremo a Filadelfia, la città dell'utopia, la Filadelfia calabrese e la Filadelfia americana, questa bellissima storia particolare. La città ci aprirà i palazzi nobiliari, il palazzo Serrao, il palazzo Costa e Apostoliti. Andremo a vedere la società operaia con il suo archivio storico e le bellissime chiese che si trovano nella grande piazza della città. Infine, non per ultimo, che è importantissimo, il laboratorio tessile. Lì scopriremo come si tesseva una volta e come ancora adesso si può fare. All'interno ci sono dei bellissimi telaio d'epoca e un bellissimo telaio rifatto sulla falsariga di quelli antichi. Avremo poi la sera di sabato una rappresentazione teatrale e una fiabba la domenica. Per poi finire, come da tradizione, a Vibbo con un bellissimo concerto all'Auditorium dello Spirito Santo. C'è anche la visita all'antica Castelmonardo? Sì, l'amministrazione ha predisposto una navetta per accompagnare i visitatori dalla piazza a Castelmonardo. Non poteva mancare Castelmonardo nella storia della città.